si è super, comunque torno a terra c'è il rumo e mi faccio un po' in montagna e riesco a Ponte Corco Ponte Corco fino a Napoli su 100 km d'autostrada la moglie mi ha annanze i 3 figli di mia retta quando vanno a pigliare in siglia vopo all'autostrada papà abbiamo sì tu non stai non vopo all'autovido non vieni ma fai ma devi partire la caglietta sta all'autovido dai servizi papà fai ma ti fai ma l'aria di servizi dai servizi ma fai fuori all'autovido uno prestigiatore i giochi i giochi i giochi che bello orologio che c'è me non aveva con l'orologio stavo facendo una chile di plastica togli l'orologio quando gli vissi i video di ritorno fai i giochetti e i figli mi fai scumbare i ritorno e scumbare purissimo ma non è buono ma è tutto buono due cornetto tu puoi fare la caglietta la caglietta e la caglietta e la caglietta comunque facciamo un pochie cose e la caglietta e la caglietta e la caglietta e la caglietta